Non solo interventi infrastrutturali ma anche agevolazioni per il tessuto imprenditoriale della Val Furva, colpito dagli effetti della frana del Ruinon. A chiederle il deputato della Lega, Ugo Parolo, che plaude all'impegno degli enti locali per risolvere la situazione di isolamento di Santa Caterina, ma chiama in causa anche lo Stato. La scorsa estate, afferma il Colichese, accompagnando in loco il ministro dell'Ambiente Costa, aveva ipotizzato col precedente governo di verificare la possibile sospensione delle imposte locali, i muetasi, per la seconda rata del 2019 in scadenza il 16 dicembre. Ora Parolo ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Economia e depositato un emendamento al decreto fiscale e al progetto di legge enti locali per arrivare alla sospensione semestrale delle imposte patrimoniali per immobili ad uso imprenditoriale e abitativo, con ristorno al comune di Val Furva della minore entrata da parte delle casse dello Stato. È una misura compensativa di minimo impatto per il bilancio statale, ma di fondamentale sostegno ai proprietari di immobili, il cui utilizzo è stato fortemente limitato dalla situazione di emergenza, afferma Parolo, auspico che l'attuale governo sia favorevole.